Ed eccoci qui con Darth Vader, il comandante in campo delle frotte imperiali al servizio dell'impero, ex-Skananakin, giusto? Quel nome non ha più alcun significato per me. Come procede? L'ultima sacca ribelle in questa piccola città è stata definitivamente spazzata via. Ora tutto è sotto controllo imperiale. Non ce ne andremo più via tanto facilmente. Che cosa state cercando adesso? Diciamo che ora ripristiniamo l'ordine del nostro imperatore. Al momento la parola d'ordine è consolidare. Le truppe come stanno reagendo? Le truppe sono cariche, come sempre. Il Colosseo quindi è sotto il vostro controllo? Sì, dobbiamo ancora decidere la sua sorte. Vedremo se sarà il caso di mantenere questo vecchio simbolo di un antico impero che non c'è più. E l'imperatore dove è adesso? Credo stia passando in rassegna le truppe. Anzi no, eccolo lì. Grazie. Grazie a voi. Grazie.